sorridete intanto siete su candid camera è uno scherzo non è vero che lui è finto in sosia allora io chiedo come abbiamo già accennato un attimo fa come è meglio affrontare questi tratti tecnici single track molto stretti in agilità duri arrivare qui che è più o meno metà giro già attaccati su con quattro giri da fare risparmiarsi lasciare andare quelli davanti perché se li tieni dopo non ne hai più domanda